Per eseguire, per creare le musiche di Cola Pesce ci siamo ispirati chiaramente alla tradizione. Troverete Fisarmonica, la Fisarmonica che accompagnerà diversi momenti molto toccanti di questo spettacolo e lì ci saranno delle dediche, non voglio svelare altro. E poi ci sarà tutta la parte percussiva che chiaramente richiama diversi sentimenti e diverse emozioni. Grazie a tutti.